Nel servizio di Maurizio Ciotola si parla di Fiscalità Generale Transizione Energetica. Presidente Comandini, l'Unione Europea è importantissima per la Sardegna, la Sardegna dentro l'Unione Europea può prosperare e chiaramente l'interscambio all'interno dell'Unione Europea per noi può essere soltanto un motivo di vantaggio, questo è evidente. Intanto l'Unione Europea è importante per i Sardi, ma è importante per il Paese Italia e per tutti gli europei. E' in un momento in cui l'unità è messa in discussione purtroppo dalla presenza in Europa di nuovi nazionalismi e di una guerra alle porte a est dell'Europa stessa. La stessa economia della Sardegna dipende molto dall'Europa, guardasi l'agricoltura. Noi il 90% dei finanziamenti che spegniamo in agricoltura sono dovuti a quello che attraverso l'Unione Europea noi portiamo ai nostri agricoltori. Ecco, noi siamo capofila nel Comitato delle Regioni a livello europeo, questo è importante perché chiaramente ci dà un vantaggio dal punto di vista dei definizioni, dei progetti e delle politiche. Sì, noi crediamo molto all'Europa delle Regioni, in quanto è chiaro che in una situazione anche geografica in cui noi siamo un'isola abbiamo meno opportunità infrastrutturali che in altre regioni d'Italia, per cui l'essere noi capofila nel Comitato delle Regioni ci porta a essere forti ma soprattutto a richiedere con forza quello che ci spetta, soprattutto in termini di insularità, di trasporti e di infrastruttura per far sì che anche i sardi possano essere a pieno titolo cittadini di un'Europa che deve crescere. L'Unione Europea per te quindi è un'entità che deve irrobustirsi, deve crescere ulteriormente e non certamente cedere potere? No, no, secondo me appunto bisogna arrivare a un'unità di tutti gli stati membri in modo da appunto rafforzare quello che è il potere dell'Europa. Quindi una politica comune? Una politica comune, sì, tutti gli stati che collaborano tra di loro. Grazie a tutti.